Ah, che bello tesoro, finalmente andiamo in vacanza, solo io e te, ci divertiremo un mondo. Oh, che bello, non vedo l'ora di fare il bagno nel mare. Già, ci divertiremo un mondo, vero Elisa? Certo. Tesoro, va tutto bene, non mi sembri così felice? Sì, va tutto bene. Non è che tu e Elisa avete litigato? Ah, sì, ok, sì, lei non vuole più essere mia amica, ok? Io non so cosa farci. Oh, oh, allora mi sa che la sorpresa non le piacerà tanto. Tesoro, ma per caso hai litigato con Elisa? Perché non vi vedo mai più insieme, stai sempre con quella Rebecca. Sì, ok? Ma perché? Che cosa è successo? Posso risolvere? Tu non puoi risolvere niente, lasciami stare. Va bene, va bene. Ma allora la sorpresa? Eh, va bene, ma magari le farà riappacificare. Speriamo. Un'ora e mezza dopo? Bene, Chloe, eccoci qui al traghetto. Adesso partiamo e arriviamo all'hotel. Va bene. Mezz'ora dopo? Bene, ok, siamo quasi arrivati. Oh, finalmente! Avevo un po' di mal di mare. Bene, siamo arrivati e adesso andiamo in hotel. Un po' dopo. Ecco qua, ho sistemato tutto in cucina. Anche in camera nostra è tutto a posto. Anche in camera mia. Vado a sistemare le ultime cose in bagno. Bene, in cucina è tutto a posto. Tu come sei messa? Bene, ho finito. Ecco qui, scrabbi. Ma c'era proprio il caso che portassi la tua pianta morta? Sì, è una mia amica. Bene, adesso mi metto il costume e poi andiamo in schiaggia. Bene, ok, in bagno è tutto a posto. Adesso ci mettiamo il costume e poi torniamo subito, ok? Va bene, vi aspetto qua. Bene, eccomi pronta. Fammi solo prendere tutto il necessario e possiamo andare. Va bene. Eccoci pronti, tesoro. Andiamo solo a prendere tutto il necessario e poi possiamo andare in schiaggia. Va bene. Chissà cosa sta facendo Chloe in questo momento. Sicuramente sarà con il suo stupido fidanzato. Ah, quanto la odio. Chissà cosa sta facendo Elisa in questo momento. Sicuramente sarà con quella Rebecca. Come fa a non capire che è falsa e cattiva e manipolatrice? Ok, Chloe, è tutto pronto. Possiamo uscire. Ok, eccomi. Aspetta che cerco le chiavi. Ok, è tutto pronto. Possiamo uscire. Ok. Aspetta solo che non trovo più le chiavi. Ecco le chiavi. Oh, eccole. Eccole. Usciamo? Oh, ecco c'è Emily con Chloe. Oh, ma guarda chi si vede. Guarda, Chloe, è la tua amica Elisa. Non è stupenda che ci sia una tua amica? Sì, è bellissimo. È proprio stupefacente. Sei contenta? Sul serio, mamma e papà? Mi avete portato nello stesso hotel in cui alloggia Chloe? Eh, sì, tesoro. E non è una cosa stupenda? No, io e lei non siamo più, amiche. Come avete potuto farmi questo? Scusa, tesoro, ma noi l'hotel abbiamo prenotato mesi fa. Che ne sapevamo che litigavate? Già, pensavamo vi avrebbe fatto piacere. Elisa, a me fa piacere vederti. Sta zitta. Andiamo in spiaggia. E scendiamo prima noi, poi scenderete voi. Ma perché ti tratta così? È colpa di Rebecca, una stupida malibotatrice cattiva. Le ha detto delle cose in cui le avrà detto sicuramente di non essere mia amica. Uffa. Tranquilla, queste vacanze di ieri ci riusciranno. Dai, c'è l'ascensore, andiamo. Speriamo. Dopo in spiaggia? Ah, aria di mare. Guarda che bella spiaggia, Elisa. State zitti, sono ancora arrabbiata con voi. No, speriamo che questo non rovini la vacanza. Ma dai, magari così faranno pace. Speriamo. Mettiamo qui la borsa. Io vado a prendermi un gelato. Io vado un po' in acqua. Piano piano perché è un po' fredda. Eccoci qui. Guarda che bella spiaggia. Sì, carina. Oh, povera Chloe. Per colpa mia, li rovinerò la vacanza. Spero proprio che vada tutto bene. Oh, ciao. Ti vuoi di prendere un gelato con me? Certo, prima poso la borsa. Magari, vabbè, io voglio quello verde. La metto qui. Eccomi, arrivo. Ok, adesso mi sono ambientata. Ecco Elisa, proverò a parlargli. Ciao Elisa. Continua. Stellina, il nostro episodio finisce qui. Come continuerà? Come risponderà Elisa? Ve lo aspettavate che sarebbero nati nello stesso hotel? E addirittura nelle camere vicine? Come andranno le loro vacanze? Faranno pace? Li diranno? Succederà qualcosa? E iscrivetevi al canale, lasciate like, condividete il video e attivate la campanella per non perdervi nessun mio video. Ciao!